Il segretario di Stato Vaticano Parolin torna sulle immagini del massacro di Buccia definendolo punto di non ritorno. Noi per la mediazione aggiunge il viaggio del Papa a Chieve è una possibilità. Gnazio Ingrao. Ha visto le immagini di Buccia, che riflessione ha fatto guardando quelle immagini? La capriccianti quelle immagini, che ci si accanisca in quel modo contro la popolazione civile non è spiegabile. Credo davvero che questi episodi segnino un punto di svolta di questa guerra e spero che facciano riflettere tutti sulla necessità di porre al più presto fine ai combattimenti. Il segretario della Nato, Stoltem, che ieri ha parlato di un armamento globale, di una Nato globale, lei che valutazione fa? C'è il principio della legittima difesa, che io ho già ricordato in alcune occasioni, però si deve fare di tutto per evitare un'escalation, un allargamento del conflitto che può avere conseguenze disastrose e micidiali. Abbiamo offerto la disponibilità per un'attività di mediazione. Il papà ha detto che il viaggio a Kiev è sul tavolo, lei come valuta l'opportunità di questa visita? Non è proibitivo un viaggio, si può fare. Si tratterà di valutare se davvero può portare o contribuire alla fine della guerra. Va a migliorare... Ed ora la polpa... Ed ora la polpa... Ed ora la polpa... Grazie.